Il progetto Upware a cui partecipiamo come legambiente attraverso la partecipazione mia al comitato scientifico ci interessa molto anche perché pensiamo che non sia un'esperienza solo di rilievo locale ma che possa dare indicazioni su questioni di interesse nazionale perché tocca due o tre nodi estremamente caldi sia della storia e dei problemi che ha il sistema scolastico sia del rapporto tra scuola, territorio, sistema delle imprese nel senso di capire cosa possono fare le organizzazioni scolastiche per sviluppare, per rinforzare i processi green che già nel territorio sono in atto, sia quelli che riguardano le singole organizzazioni produttive e istituzionali ma anche quelli che riguardano gli stili di vita dei cittadini complessivamente quindi come tutto il sistema territoriale possa evolvere verso uno scenario più sostenibile e all'interno di questo qual è il ruolo della scuola. Questa sfida è una sfida praticamente interessante perché già nel collegato ambientale di un anno e mezzo fa quindi diciamo del fine 2015 si parla a livello istituzionale di green community e le green community sono quell'insieme di aziende, attività produttive, istituzioni, singoli cittadini che costruiscono una comunità che opera per uno sviluppo sempre più sostenibile questioni che sono davvero di grande attualità sia per il mondo della scuola ma anche per il mondo di tutti noi perché i fenomeni a cui stiamo assistendo in questi giorni, i cambiamenti climatici, la siccità, gli incendi eccetera sono questioni di enorme attualità ma non sono diciamo di una contingenza quotidiana hanno a che fare con emergenze strategiche che o cominciamo a risolverle partendo da cambiamenti in atto nei territori e qui la scuola è fondamentale oppure rimarranno sempre sospese.